Grazie, questa è la seconda parte dell'introduzione, il titolo è La storia rimossa e la mia intenzione di discutere con Paolo Peluffo alla mia sinistra, consigliere scientifico di Limes, caro amico e soprattutto fra le altre cose grande curatore e organizzatore del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, ricorderete, l'Unità d'Italia la ricorderete e Antonio Scurati, scrittore, saggista, non ha bisogno di presentazioni qui fra le altre cose anche come autore di questo formidabile romanzo storico che è M, il tema che propongo è appunto com'è possibile che un paese come l'Italia, che è un paese se ce n'è uno storico, rimuova la storia, si disinteressi della propria storia. Ricordo qualche secolo fa quando frequentavo l'università le cattedre di storia del risorgimento erano diffuse in tutto il paese, mi risulta che ne sia rimasta uno o due. Una o due? Insomma, disastro. Insomma, è come se in America non si studiasse più George Washington o in Francia si escludesse Robespierre. Ma così è, noi siamo molto particolari. Il problema di chi dimentica la propria storia è che poi finisce per non capire più chi è e che cosa accade intorno a lui, perché gli altri la storia in genere se la ricordano e soprattutto la utilizzano. Se c'è qualcosa che caratterizza questa fase geopolitica è la manipolazione della storia a fini geopolitici. Ognuno cerca di legittimare i propri interessi e le proprie espansioni territoriali in base a quello che fu. Prima citavo Putin sulla nuova Russia di Caterina II, ma gli esempi potrebbero essere infiniti. Non sto dicendo che dobbiamo manipolare la storia, sto dicendo che però dobbiamo conoscerla, perché se no siamo noi ad essere manipolati. E allora ho provato con l'aiuto di Paolo e di Antonio a proporre a loro un dialogo a distanza che poi diventerà ravvicinato nella seconda parte, in cui Paolo ci spiegherà a che punto siamo con la rimozione del risorgimento e invece Antonio ci spiegherà di a che punto siamo con la rimozione del fascismo. Per quanto riguarda la rimozione del fascismo devo anche aggiungere che il grado di manipolazione del periodo fascista e della figura di Mussolini stessa a mio avviso non ha uguali, nel senso che probabilmente coloro che nel 1919 si riunirono a Sansepolcro, un manipolo di persone all'epoca più o meno classificabili intorno all'estrema sinistra, mai avrebbero immaginato che la parola fascismo sarebbe diventata internazionale e utilizzabile nei contesti più diversi, ma di questo poi parleremo. Per introdurre questo dialogo, e poi lascio loro la parola, ho scelto qualche citazione. Una di Cavour, una lettera a una sua amica, ne aveva tante, dice Non ho alcuna fiducia nelle dittature. Credo che con un Parlamento si possono fare molte cose che sarebbero impossibili a un potere assoluto. Non mi sono mai sentito così debole come quando le camere sono chiuse. Sono figlio della libertà e a lei che devo tutto quel che sono. Se occorresse mettere un velo sulla sua statua, non spetterebbe a me farlo. Se si giungesse a convincere gli italiani che hanno bisogno di un dittatore, sceglierebbero Garibaldi e non me. E avrebbero ragione. E invece ho scelto tre frasi del Duce che, come sappiamo, ha detto tutto il contrario di tutto, ma insomma, fra le altre cose ha detto anche questo a proposito del Trimurti del Risorgimento, e cioè, appunto, Cavour, Garibaldi e Mazzini, o Masini, come dite voi qua a Genova. Discorso alla Camera del 13 maggio 1929, un discorso piuttosto interessante e importante in cui parla dei rapporti fra Stato e Chiesa non esattamente come Cavour. Oggi, onorevoli camerati, noi possiamo portare questo ramoscello d'olivo sulla tomba di Cavour, il grande costruttore dell'unità italiana, perché soltanto oggi la sua speranza è realizzata, il suo voto è compiuto. Ricordo a questo proposito il giudizio di una personalità come quella di Buonaiuti, il quale diceva che il fascismo è l'ultima febbre del Risorgimento. La seconda citazione, le camicie nere che seppero lottare e morire negli anni dell'umiliazione si posero politicamente sulla linea delle camicie rosse e del prode condottiero. Citazione che avrebbe fatto felice probabilmente il mio amico Pennacchi. Discorso per l'inaugurazione del monumento Anita Garibaldi. E poi, e qui siamo in epoca repubblichina, più che dai monarchici, l'unità e l'indipendenza d'Italia fu voluta contro tutte le monarchie più o meno straniere, tra cui sicuramente annoverava i Savoia, dalla corrente repubblicana che ebbe il suo puro e grande apostolo in Giuseppe Mazzini. Paolo. E diciamo che qui siamo nell'ambito della manipolazione della storia. E quindi siamo proprio, mi solleciti su un tema, il risorgimento va frequentato e noi tendiamo a non frequentarlo più. Il risorgimento è intanto una parola che riemerge, è una parola di un giornale, la testata di un giornale di cui era direttore il giovane Cavour. Il risorgimento vuol dire rialzarsi dopo essere caduti. E prima di tutto per inquadrarlo bisogna capire rispetto a che cosa ci dovevamo rialzare, perché si propone una parola così non neutrale per definire un periodo storico. Però tu mi hai sollecitato su delle citazioni. La seconda delle citazioni di Mussolini, inaugurazione del monumento di Anita Garibaldi, del bisnonno di Rutelli, di Francesco Rutelli, che è lo scultore che fece questo bellissimo monumento equestre, che è l'unico monumento equestre femminile al mondo con arma, perché Anita impugna una rivoltella, e c'era la tomba perché Mussolini volle la traslazione della salma di Anita da Ravenna a Roma, per cui sul Gianicolo tuttora è la sepoltura di Anita. E fu un momento in cui lui tentò di appropriarsi la memoria delle camicie rosse, spaccando a metà la famiglia Garibaldi, che per metà era antifascista, e invece il generale Ezio in qualche modo favorì questa operazione. Siamo nell'ambito di un tentativo di ricongiunzione con una memoria che allora era ancora viva, ed era la memoria di un pensiero, di un'azione tipo rivoluzionario, proprio nel momento in cui il regime diventava sempre più conservatore, faceva la moneta forte, riduceva gli stipendi statali, e quindi faceva delle politiche totalmente conservatrici. E quindi era un'operazione di comunicazione di altissimo livello. Però se noi torniamo al risorgimento, il risorgimento in una parola io la rubo ad Antonio Scurati, ed è il titolo di un suo bellissimo libro, di una dozzina di anni fa, è una storia romantica. È una storia romantica, bella, piena di idealismo. Però per capirla bisogna sempre, questa storia romantica, riportarla a cosa vuol dire risorgimento. Intanto la prima cosa da dire è che, come sapeva bene Cavour, era un periodo storico freddissimo. Era attanagliato dalla glaciazione. La glaciazione, quella che ha studiato Brian Fagan, dell'Italized Age, che inizia a fine Cinquecento, al suo momento più acuto, dal 1750 all'anno dell'Unità d'Italia, dove il freddo fu il massimo. Tutti i paesi vennero aggrediti dal freddo, ma l'Italia ne ebbe un danno maggiore perché non riuscì a gestire la produzione cerealicola in quanto non aveva i concimi, in quanto mancavano gli animali. Sostanzialmente il Regno d'Italia appena nato calcolò che in Italia mancavano 17 milioni di capi di bestiave. Quindi noi, l'Italia di allora, rispetto a quella di 100 anni prima, non di 200 anni prima, era un'Italia impoverita che era scesa sotto la soglia di povertà per oltre il 60% della popolazione. Un paese abituato a pensarsi come ricco, perché anche l'Italia del Seicento era un'Italia che come reddito pro capite aveva ancora il 20% di reddito più della Francia. Era stata superata dall'Olanda, ma non dall'Inghilterra. esportava cinque volte l'Inghilterra, l'Italia del Seicento, di inizio Seicento. L'Italia di fine Settecento era un paese poverissimo. Ovviamente l'Italia del Seicento resse un declino che iniziava prima grazie a tre elementi. Genova, la potenza finanziaria genovese, la potenza commerciale e militare, la flotta veneziana, e il potere universale dei papi che gli consentiva di intromettersi nella politica di tutte le potenze cattoliche. Queste tre cose vengono a saltare nel Settecento. Quindi il risorgimento c'è un elemento, un rinvio, una nostalgia di un paese molto più ricco. Ma la cosa paradossale è che il risorgimento, cioè quello che secondo Croce inizia nel 1815 col congresso di Viena, da noi una leggenda nera attanaglia al congresso di Viena che io personalmente non condivido, diciamo dal 1815 all'unità d'Italia compiuta con la presa di Roma nel 70, è il periodo peggiore di crollo dell'economia che l'Italia abbia mai vissuto in mille anni. Quindi non era affatto un bel periodo. Il reddito pro capite rispetto a un secolo prima era meno 50%. Il salario dei contadini all'inizio dell'unità d'Italia era il 25% di quello del 1400. Cioè i contadini dell'epoca di Firenze dei medici guadagnavano sostanzialmente quattro volte di più dei contadini dei primi anni dell'unità d'Italia. Questo cosa voleva dire? voleva dire che in una crisi sistemica di un paese che non aveva le forze, i capitali e non riusciva a affrontare politiche economiche per reggere lo sviluppo del paese chi governava e chi dominava le politiche dell'Italia di allora l'aveva gestito questa situazione a spese dei poveri. Quindi diciamo le politiche degli illuministi che sono alla base di tutte le politiche riformiste del Settecento erano politiche anticicliche e sostanzialmente che puntavano a diciamo recuperare la produttività sui salari e quindi a impoverire quindi a proletarizzare le masse quindi un paese poverissimo diciamo ci sono due soggetti che capiscono questo perché questa cosa è nascosta anche nella coscienza di allora noi parliamo della rimozione della storia di oggi no? Ma anche allora si operava una rimozione la rimozione come si operava descrivendo in nero il Seicento e descrivendo il Settecento e l'Ottocento come un lento miglioramento un lento progresso che era esattamente il contrario di quello che risulta dai dati che per esempio Paolo Malanima o Stefano Fenoltea hanno fatto sui dati economici di quel periodo questo per dire che due soggetti politici capiscono il problema uno sono i carbonari e sul carbone io vorrei dire due parole perché in un mondo freddissimo dove per due anni non c'era l'estate perché 1815 1816 sono i due anni senza estate per l'esplosione del vulcano Tambora ma faceva già molto freddo e l'Italia doveva usare i terreni per coltivare il grano e si disboscava non c'era più la legna gli illuministi avevano puntato sulla cancellazione degli usi civici e quindi la gente non poteva andare a raccogliere la legna perché si erano tolti gli usi civici si erano tolte le corporazioni e le corporazioni erano un elemento di protezione della vecchia Italia e quindi sostanzialmente la leva finanziaria necessaria per risollevarsi in una situazione così sarebbe stata elevatissima i carbonari voglio dire i carbonari era il carbone da legna quindi diciamo era la società segreta un rito che veniva dalla Lorena preso dai rivoluzionari italiani che si erano organizzati con una direzione strategica durante il regime napoleonico organizzano un'associazione dandogli un nome della cosa più preziosa la cosa più preziosa era la legna e il carbone la legna costava 18 volte di più che un secolo prima il grano due volte la carne tre volte cioè il prezzo della legna era e quindi riscaldarsi era difficilissimo e quindi i carbonari era una cosa molto trendy tant'è vero che era un movimento di massa un'organizzazione rivoluzionaria che nel sud Italia coinvolgeva mezzo milione di persone quindi diciamo la storia ce la raccontano dicendo il risorgimento non è un movimento di massa ma di elite è vero alla fine della storia l'autunno della nostra rivoluzione che è quello che noi chiamiamo risorgimento non è vero all'inizio in più la carboneria era un'organizzazione internazionale che non veniva nient'altro che dagli eserciti napoleonici e quindi il risorgimento era risorgimento rispetto all'orgoglio di chi aveva vissuto l'esperienza militare delle guerre napoleoniche o l'amministrazione napoleonica che aveva dato uno stipendio a decine di migliaia di persone nel momento in cui comunque aveva amputato l'Italia del pezzo occidentale con l'annessione della Liguria del Piemonte poi della Toscana direttamente la Francia e sul lato orientale la distruzione della potenza di Venezia la distruzione di Venezia è un danno che l'Italia non recupererà mai più perché ciò che viene dopo il Veneto austriaco diciamo che poi è il Veneto di oggi è la terraferma veneziana riscattata dalla servitù verso Venezia ma Venezia non ha più la dimensione strategica del controllo dell'Adriatico dello Ionio che vengono persi per sempre quindi io direi che la la sfera italiana geografica di prima del risorgimento è più ampia di quella dell'unità d'Italia che è una piccola Italia usando una metafora germanica diciamo tra piccola Germania e grande Germania è una piccola Italia perché è un'Italia senza l'Adriatico è un'Italia senza il controllo pieno del tirreno perché perde ed è un'Italia che perde il controllo dei valichi alpini che erano tanto importanti ora in tutto ciò però c'è l'idealità delle persone e quindi cosa succede? Succede che non si può negare che il risorgimento italiano per tante vie traverse sia una prosecuzione del meccanismo messo in moto dalla rivoluzione francese e in qualche modo cristallizzato nel periodo napoleonico quindi risorgimento è anche per i contemporanei il risorgimento dello stato perduto uno stato che c'era che era uno stato italiano che era quello con capitale milano ma che tutto sommato aggregava anche il regno di Napoli e i territori annessi alla Francia perché tutti avevano il codice civile ora il codice civile è un testo meraviglioso che è sostanzialmente tuttora in vigore ma aveva il punto centrale nel diritto di proprietà ecco noi tendiamo a pensare al diritto di proprietà con qualcosa di antichissimo in realtà è l'obiettivo di una serie di generazioni che parte dalla rivoluzione dell'aristocrazia della nobiltà europea che vuole liberarsi del peso del servizio pubblico e di avere la pienezza dell'uso delle proprie terre che erano in concessione feudale liberate da questi pesi pubblicistici quindi diciamo che è un processo in cui c'è una certa ambiguità dell'obiettivo storico ma che viene perseguito con grande forza se noi vediamo che nell'atto finale del congresso di Vienna il punto centrale fu il mantenimento dei diritti di proprietà di chi aveva comprato beni nazionali beni nazionali è una forma come dire eufemistica per dire i beni espropriati alla chiesa sostanzialmente e a poche entità pubbliche una economia europea che si basò per quasi un secolo con l'utilizzo di questi beni espropriati alla chiesa quindi diciamo che la continuità del risorgimento qui mi riallaccio al primo delle tre citazioni di Mussolini perché a noi stupisce l'idea che un Cavour che aveva capito la necessità di una leva finanziaria fortissima e puntò tutto sulla creazione delle banche centrali a Genova e a Torino la monetizzazione del debito e la creazione del debito pubblico cioè con l'occhio di oggi come liberista era veramente sui generis perché lui era a favore della leva del debito e in ogni caso a noi stupisce sapere che Cavour fece arrestare l'arcivescovo di Torino l'arcivescovo di Vercelli cioè lo scontro con la chiesa fu durissimo e anche forse al di là delle necessità politiche per dare un messaggio quale messaggio un messaggio al pubblico che era al suo pubblico che lui manteneva una rotta che era quella della laicizzazione dello Stato pur avendo una costituzione debolissima che consentirà l'arrivo al potere di Mussolini perché la costituzione lo statuto albertino non consentiva una interpretazione di parlamentarismo come quella che riteneva esistente che ha avuto anche quella fu una forzatura geniale e la creazione di un organismo che all'Italia ha dato tantissimo che è il Parlamento diciamo subalpino tutto sommato l'Italia ha avuto degli uomini eccezionali e alcuni organismi istituzioni eccezionali uno è stato il Parlamento diciamo subalpino il Parlamento di Torino che ha guidato dopo il 1849 fino all'unità d'Italia diciamo l'esistenza di una rappresentanza in qualche modo nazionale e l'altro fu il Consiglio di Stato napoleonico a Napoli che dentro di sé aveva i capi della rivoluzione italiana che erano Vincenzo Cuoco e tutti quelli attorno a Murat che poi sono all'origine del primo tentativo rivoluzionario quindi diciamo noi abbiamo come un vulcano che non si spegne per molte generazioni fino a che l'obiettivo della costruzione dello Stato non viene raggiunto noi abbiamo vari obiettivi l'indipendenza l'unificazione nazionale la creazione dello Stato la democratizzazione del Paese e la modernizzazione sono cinque diversi assi e non è detto che tutti questi assi abbiano gli stessi protagonisti perché per esempio in termini di indipendenza sicuramente Napoli e i Borbone cercarono di fare molto sia nella fase prima della rivoluzione francese con la creazione della flotta sia dopo la rivoluzione dopo il congresso di Vienna con uno Stato più moderno che era quello più napoleonico fra tutti gli Stati italiani lo Stato più arretrato era il Piemonte che l'unico per cui si era legittimo parlare di restaurazione mentre non lo era per Napoli quindi diciamo un'azione intergenerazionale che non sarebbe stata possibile senza una condivisione da vastissimi strati della popolazione che trova diciamo gli interpreti quando è alla fine perché Mazzini cosa fa da una lettura moderata di tutti i resti delle rivoluzioni degli anni dei decenni precedenti tiene vivo l'idea di una costituente e Cavour fa la stessa cosa cioè interpreta raccoglie i resti di una rivoluzione che era stata sconfitta negli anni precedenti e con un'operazione di aggancio di un vincolo esterno e di uno scenario internazionale favorevole riesce a portarli al successo ora la questione della chiesa diciamo ovviamente insomma Mussolini fa l'esatto contrario di quello che era l'obiettivo di Cavour e cioè resta incerto se questa operazione di accordo con la chiesa che fa Mussolini che è la resa diciamo della storia del risorgimento e non il suo inveramento si sarebbe potuta fare invece cento anni prima e se con un accordo con la chiesa in qualche modo non accentuando gli elementi di scontro come invece fece Cavour sarebbe stato uno scenario possibile gestire un'unificazione io non sono sicuro che questo secondo scenario fosse del tutto impossibile sicuramente lo diventa dopo il 1849 con tutto ciò noi abbiamo una storia straordinariamente ricca originale poco sanguinaria il fatto che non sia stata una rivoluzione sanguinaria o giacobina come dicevano diciamo gli storici marxisti non lo vedo come un aspetto negativo anche perché poi il diciamo che il tasso di qualità di una rivoluzione sia quella del suo giacobinismo mi sembra una ipotesi del tutto assurda anche perché anche il giacobinismo per i francesi è un episodio estremamente limitato e di una dimensione inferiore a quella che gli è stata attribuita tant'è vero che lo stesso Mazzini in realtà è un'erede del giro in un minuto prima di dare la parola Antonio Scurati ma perché abbiamo considerato questo periodo storico non degno di essere introdotto nel nostro curriculum pedagogico beh c'è una responsabilità diciamo di tutti i detrattori della rivoluzione italiana a partire da Salvemini fino ad arrivare gli storici marxisti che vedono una rivoluzione di serie B intanto perché non era sanguinaria prima cosa secondariamente perché erano tutti moderati non rendendo compreso Mazzini che fa un'operazione straordinaria rispetto alla carboneria ecco la carboneria va un po' spiegata perché dentro la carboneria c'erano tre programmi politici che noi consideriamo opposti il moderatismo cattolico ai gradi bassi il repubblicanesimo al secondo livello il comunismo ai livelli nascosti e superiori questa operazione era molto complessa deriva dall'illuminatismo dagli illuminati di Baviera da una linea diciamo eretica della massoneria mondiale ed è incredibilmente all'origine del movimento democratico cosa fa Mazzini Mazzini fa due cose cancella gli aspetti violenti dei riti carbonari la violenza lui lo racconta nelle note autobiografiche ma soprattutto dice i veri scopi dell'azione politica devono essere conosciuti da tutti perché lui sapeva che i veri scopi della carboneria erano il disegno giacobino bonarrotiano di comunismo e quindi di distruzione attraverso un'alternativa dialettica di modelli che si scontravano l'uno con l'altro era un pensiero dialettico quindi Mazzini fa un'operazione di trasparenza politica lui dice io fondo un partito in cui tutti sanno qual è il programma ma dall'altra parte chiude gli aspetti diciamo estremistici e quindi anche Mazzini è più moderato di Cavour perché Cavour invece era un estremista nel suo modo di operare anche diciamo in una disinvoltura non inferiore a quella di Mazzini grazie Paolo Antonio buonasera innanzitutto io con topica dell'esordio devo dirmi molto contento di essere qui a Genova in questa magnificenza e per me quasi un debutto credo di non aver mai parlato in pubblico in questa città e mi forse una volta tanti anni fa agli esordi ormai lontani e mi chiedo il perché lo chiedo a voi molti di voi saranno genovesi quando si pubblica un libro nell'editoria del libro italiana Genova non viene nemmeno presa in considerazione per il circuito diciamo delle promozioni delle presentazioni nessuno ti mandano ti suggeriscono di andare anche in luoghi improbabili ma mai a Genova perché perché non lo so la lasciamo lì come domanda inquietante sì che ci sarebbero tantissimi ottimi motivi per venire a Genova io e la mia compagna che siede qui in mezzo a voi ma adesso non la guardo se no poi voi la individuate addirittura accarizziamo l'idea di venirci a vivere a Genova noi stiamo a Milano però io non ho mai presentato un libro a Genova vabbè questo lo dico come scusazio diciamo non pettita però deve esserci un inghippo se non ti mandano mai a Genova però vedo qui questo pubblico è così numeroso così bello e mi mi suscita il rimpianto per tanti anni in cui non ci sono mai venuto nelle vesti boh la faccio finita allora io voglio mi ci ha portato Lucio Calacciolo a Genova e quindi io devoto voglio eseguire il compito in maniera disciplinata cosa che quasi mai mi è riuscita nella vita e quindi proprio aggredire subito la questione della rimozione della rimozione è il fascismo un periodo della nostra storia rimosso dalla coscienza collettiva la mia risposta è sì sì ed è una risposta che porta con sé un paradosso immediatamente evidente a tutti non vi è forse periodo anzi senza forse non vi è certamente periodo storico più presente in qualche modo più alleggiante come lo spettro che alleggia sul nostro presente del fascismo e proprio per questo non vi è periodo più rimosso il fascismo come consentitemelo anche la cronaca politica recente sta a dimostrare è stato e rimane non me ne voglia Peluffo in quanto rappresentante del risorgimento l'evento centrale della nostra storia contemporanea lo è stato e continua ad esserlo ahimè e e però gli italiani non hanno mai fatto i conti fino in fondo con esso in questo consiste la rimozione la rimozione non è una cancellazione è una se vogliamo intenderla nella sua accezione più propria cioè quella psicoanalitica freudiana è un confinamento in strati profondi malmostosi oscuri della subcoscienza di qualcosa che non può proprio per questo motivo essere superato elaborato storicizzato che sta lì sotto il fantasma nell'inconscio e che continua da là sotto a fermentare gorgogliare come un dio idiota che gorgogli stringhe di frasi senza senso nel centro di un universo maligno sta lì il fascismo e perché io dico questo perché io dico questo se del fascismo sul fascismo esistono intere biblioteche di studi saggi memorie non vi è quasi giornale quotidiano settimanale o qualche anno a questa parte poi che non in qualche modo menzioni la questione del fascismo ai Mussolini perché per fare i conti con un fenomeno storico e non mi riferisco qui ad un sottile strato di intellettuali che lo fa di mestiere e che spesso pur facendolo di mestiere non arriva mai a fare i conti davvero c'è una domanda di tipo esistenziale che è insopprimibile e cioè la domanda che alla fine forse è l'unica che conta quando ci così solleviamo sulla cattedra di una meditazione sulla storia quindi di uno sguardo su un tempo più vasto delle nostre vite un tempo che viene da lontano che ci attraversa e che va lontano io prima ero fuori a sfumacchiare ma mi pare di aver colto che qui presente ottimo Lucio Caracciolo stesse leggendo una pagina di Ernesto De Martino non so se mi sono sbagliato è quella storia è quello sguardo sul tempo umano che ti dice ti fa sentire quella voce che ti dice coraggio non sei il primo non sei l'ultimo non sei il solo insieme a te viaggiano legioni di umani che sono nati cresciuti e trascorsi prima che tu venissi al mondo e schiere ancora più vaste che sono quelli che ancora non sono nati che ancora non sono venuti al mondo questo è lo sguardo sulla storia quello sguardo che ti dà i brividi e che possiamo consentirci soltanto qualche volta nella nostra vita perché è un sole che acceca ebbene la domanda esistenziale che ci fa fare i conti con la storia è dove sono io in quella corrente dove sono io prima ancora di conoscere il fascismo noi dobbiamo ritrovare un sentimento della storia cioè quell'attitudine che quando ci mettiamo davanti all'immagine di quell'uomo lì superbo spavaldo che gonfia il petto e serra la mascella e che troppe volte abbiamo guardato e abbiamo smesso di vedere ci fa dire dove sono io in quella foto la risposta per me dopo lunga riflessione è ovvia io sono lì dove è stato mio nonno quel nonno di cui porto il nome indegnamente che ha avuto una vita completamente diversa dalla mia ha fatto il tornitore all'Alfa Romeo dell'ingotto a Milano che aveva delle mani enorme perché gli servivano a tornire i metalli e io gli somiglio molto tranne che per le mani perché a me non servono se non a scrivere e quindi noi c'eravamo c'eravamo e che ruolo abbiamo avuto nel periodo fascista questa è la domanda esistenziale dove sono io dentro quel quadro e che ruolo ho avuto e allora se gli italiani si fossero posti veramente questa domanda come hanno fatto i tedeschi per esempio nella lingua tedesca esiste una parola per me impronunciabile che è stata coniata apposta a un neologismo nel secondo dopoguerra e che si chiama superamento del passato per indicare questo rapporto anche con il profondo senso di colpa che la collettività tedesca ha sviluppato per gli orribili crimini del nazismo e che non ha un equivalente nella lingua italiana perché non è mai esistito questo rapporto perché se noi ci fossimo posti collettivamente quella domanda ci saremmo dovuti rispondere che noi italiani siamo stati fascisti e questo è il punto non c'è autentica resa dei conti con la storia comprensione oltre che conoscenza della storia se non a partire da un senso di responsabilità e in questo caso da un senso di colpa perché il fascismo è stato indubbiamente non una commedia come in base a un enorme equivoco viene a volte dipinta e Mussolini un personaggio comico ma un'immane tragedia politica di cui l'Italia è stata foriera nel mondo una delle ultime grandi creazioni se vogliamo spirituali di questo nostro paese grandi per i suoi effetti per le sue conseguenze è stato ahimè il fascismo uno degli ultimi doni che l'Italia ha dato al mondo è stato il fascismo dono avvelenato ovviamente avvelenatissimo e allora se noi ci fossimo avessimo voluto fare i conti veramente a livello di coscienza collettiva con Mussolini e col fascismo avremmo dovuto farlo a partire da un senso di responsabilità e di colpa cominciando con l'assunto che noi italiani siamo stati fascisti non tutti certo prima Peluffo menzionava Salvenini grande antifascismo antifascista uno dei pochi che Mussolini veramente profondamente odiava non lo sopportava non tutti certo ma molti troppi troppi troppo a lungo per slancio e convinzione per opportunismo per entusiasmo per calcolo o per vigliaccheria e paura ma lo siamo stati questa ammissione di colpa sarebbe secondo me necessaria preliminare ad un'autentica comprensione estoricizzazione quindi di quel periodo per poi lasciarcelo alle spalle per prendere congedo da esso per guardare fino in fondo dentro al suo abisso cosa impossibile se non accetti che l'abisso ti restituisca lo sguardo e ti dica quell'abisso è dentro di te ora mio nonno i miei nonni per fortuna nessuno dei due è stato diciamo così un fascista ma non hanno neanche tutto sommato fatto nulla contro il fascismo e se noi finalmente riuscissimo a compiere questo gesto collettivo di guardare dentro quell'abisso e di vedere quell'abisso dentro di noi e di fare i conti con quell'immane tragedia politica che è l'origine nera della nostra nazione contemporanea forse finalmente potremmo lasciarcelo alle spalle ed evitare che il presente e la cronaca politica ce ne restituisca continui e costanti rigurgiti rigurgiti che però non giungono mai al livello della coscienza e della consapevolezza ma rimangono sempre in quella zona oscura torbida di subconscio per cui abbiamo dovuto assistere di recente perfino all'avvento al potere politico di una classe di una classe dirigente liberamente democraticamente eletta che proviene da una storia conclamata e a tutti nota di neofascismo di neofascismo a cui però non è stato chiesto ai quali non si è avanzata la pretesa che con un atto diciamo così un discorso pubblico riconoscessero quella loro storia magari consegnandola a un passato che hanno superato se non rinnegato e che ci facessero i conti nella acquiescenza indifferenza o complicità del nostro elettorato una classe politica che proviene dal neofascismo e che ha in molti suoi esponenti manifeste nostalgie per il fascismo potrei fare un elenco di aneddoti ma non voglio scivolare nell'aneddotica ha potuto liberamente eletta e democraticamente eletta conquistare il potere nel nostro paese senza dover fare i conti con il suo passato neofascista va bene e che visto che siamo in argomento attualmente si è trovata dinanzi a un bivio siccome un passato rimosso è in qualche misura inconfessabile almeno in pubblico poteva si è trovata di fronte all'alternativa se appunto fare ciò che sto dicendo quel processo pubblico trasparente democratico di superamento del passato oppure se fare quest'atto forzoso tendenzioso e ammorbante per quanto riguarda l'aria che respiriamo di reinterpretazione di tutta la storia nazionale almeno di quella novecentesca cambiando di segno dal negativo al positivo a quel passato e loro hanno scelto questa seconda via che è quello che in questo momento in varie forme stanno facendo attraverso la progressiva colonizzazione di tutte le istituzioni culturali le agenzie di comunicazione che hanno questo preciso mandato non di dire va bene noi veniamo dal neofascismo e cosa facciamo i conti con questo fa parte della nostra storia sono stato io il primo a dire dobbiamo riconoscere che l'Italia è stata fascista che l'Italia è stata fascista ce lo lasciamo alle spalle no l'alternativa è reinterpretiamo tutta la storia italiana cambiando di segno al ruolo che ha avuto il fascismo ridimensionando nella colpa smussando negli angoli riconoscendo che sì in fondo beh sì poi qualche errore è stato fatto le leggi razziali l'alleanza con Hitler però tutto il resto rimane lì va bene allora questo in realtà volevo fare un altro discorso ma come al solito sono stato preso dalla verbolemica ma ci vuole la rimozione ruota attorno alla non volontà di questo sguardo sulla storia che ci riconosca come artefici del male storico e non come sue vittime che ci spinga ad assumerci la responsabilità e il senso di colpa per questo momento fondativo dell'Italia contemporanea che è una mitologia nera che è un momento non edificante ma è un momento negativo l'origine dell'Italia contemporanea non è il bene il risorgimento ma è il male è il fascismo siete disposti a fare i conti con questo? No la nostra casa politica civile e culturale continuerà ad essere infestata da quei fantasmi altrimenti detto la questione che spinge alla rimozione è quella che Renzo De Felice pose del consenso al regime voi sapete che fino alla grande biografia di Mussolini su Mussolini di Renzo De Felice finché vigeva ancora diciamo così l'interpretazione del fascismo dal punto di vista dei suoi antagonisti dei suoi dissidenti cioè della storiografia liberale o comunista Mussolini sembrava appunto l'invasione degli Ixos benedetto croce questa banda di barbari che era arrivata dal fuori aveva violentato il paese aveva imposto se stesse con la violenza e gli altri l'avevano sofferta e scontata ovviamente come invece di Segobetti il fascismo è stato l'autobiografia della nazione De Felice comincia a riconoscerlo quando pone la questione del consenso Mussolini Mussolini ebbe un vastissimo consenso in vari stadi in varie forme io nel mio piccolo scrivendo questi libri questi romanzi questo breve saggino che uscirà la settimana prossima che si intitola fascismo e populismo Mussolini oggi riformulo questa questione mettendo l'accento non sul Mussolini stupratore della nazione ma sul Mussolini seduttore se mi passano la metafora il fascismo violentò l'Italia certamente il fascismo è stato violenza sin dal suo primo giorno e lo è stato per tutti i giorni della sua esistenza storica e fino all'ultimo l'esito ultimo dell'alleanza con il nazismo delle leggi razziali dell'apocalisse della seconda guerra mondiale in cui Benito Mussolini trascinò il paese pur pienamente consapevole del fatto che il paese non volesse combatterla quella guerra non volesse combatterla al fianco dei nazisti e che fosse totalmente impreparato dal punto di vista militare industriale e morale per un suo piccolo meschino cinico e sbagliatissimo calcolo pensò di poter comunque come dice la vulgata con qualche migliaio di morti sedersi al tavolo dei vincitori ma quello fu l'esito ultimo e obbligato della violenza della cultura di morte che fu cifra del fascismo fin dall'origine possiamo individuare questa radice del fascismo proprio in un evento che ci riporta al risorgimento novembre del 1918 proclama della vittoria l'Italia vince nella prima guerra mondiale a Milano si va a festeggiare la vittoria dove in piazza delle cinque giornate legame col risorgimento in piazza delle cinque giornate Mussolini che è un giornalista d'assalto un personaggio molto noto ma è uno sbandato alla ricerca di una nuova via per il potere perché è stato espulso dal partito socialista che prima lo amava e che adesso lo odia il grande movimento di popolo e di socialisti è lì in piazza a fiutare l'aria a cercare una nuova strada che lo conduca al potere e compie un gesto che sarà foriero di avvenire sale sul camion degli arditi vi sapete gli arditi erano questi commando queste truppe d'assalto della prima guerra mondiale che erano stati mitizzati negli anni di guerra e poi dopo finita la guerra in qualche modo scaricati erano i professionisti della violenza che servivano al mito bellico e anche in qualche azione diciamo così di commando ma che poi tornate alla pace erano stati in qualche modo congedati con disonore Mussolini quel giorno compie questo gesto sale proprio fisicamente sul loro camion si siede a fianco a questi uomini che erano professionisti della violenza e che si sentivano ancora legati al clima di guerra e che non erano disposti a vivere in tempo di pace sale con loro prende le loro difese bicchierate promesse eterne di solidarietà pacche sulle spalle e quegli uomini saranno poi ovviamente il nucleo fondativo delle squadracce fasciste no? ci dicono che la guerra è finita ma noi ridiamo la guerra siamo noi no? questa gente qui e quella è una radice è quella della violenza fascista primo giorno primo giorno di pace il proposito di portare la guerra nelle strade cosa che loro faranno ma c'è un'altra radice senza la quale noi non capiamo di essere stati fascisti cioè pensiamo sempre di poterci collocare nella posizione simbolica delle vittime i fascisti sono gli altri sono loro i perpetratori della violenza e noi stiamo da questo lato qui no? la raccontiamo a partire dall'ottica degli antifascisti delle vittime dei perseguitati no? loro sono i cattivi ed è la radice della seduzione e un anno dopo novembre del 1919 elezioni politiche Mussolini anche se ha predicato il disprezzo del Parlamento della medaglietta elettorale le cose decide di candidarsi no? candida il suo movimento neonato con una lista che si chiama lista Tevenot il cui simbolo elettorale non è una falce del martello non è il sol dell'avvenire ma è una granata da lancio una bomba a mano no? esplicito diciamo anche in questo risultati elettorali un disastro un disastro un fiasco totale il neonato movimento dei fascisti di combattimento prende soltanto 4.100 voti in tutta Italia gli antagonisti no? quelli contro cui loro vogliono fare il muro gli ex compagni socialisti prendono un milione e 300 mila voti tutti considerano Mussolini un uomo finito un politico finito i vecchi compagni socialisti inscenano un funerale a bara aperta sotto la finestra della direzione del popolo d'Italia con dentro il fantoccio di Mussolini vanno a sfotterlo sull'avanti il giornale del socialismo esce un trafiletto una breve in cronaca ritrovato un cadavere in stato di decomposizione nel naviglio si ritiene che sia il cadavere di Benito Mussolini tutti lo arrestano perché i carabinieri trovano le bombe a mano le pistole nella cassaforte del suo ufficio del direttore lo mettono in galera lì poteva essere finito chi lo fa liberare? uno dei massimi rappresentanti del movimento e del pensiero liberale in Italia quindi proprio i nemici dei fascisti il direttore del Corriere della Sera che telefona a Roma a Nitti e gli dice senti Mussolini è già un politico finito non facciamo noi un martire liberatelo ebbene tre anni dopo questo politico che tutti ritenevano finito figlio di un fabbro di un piccolo paesino sperduto nelle marche delle Romagne remote con niente nessuno alle spalle sale le scale del Quirinale e riceve del re Vittorio Emanuele terzo re d'Italia che non gli venga mai perdonato l'incarico no Genova non è monarchica no è repubblicano l'incarico io a Torino quando dico sta cosa sento sempre l'incarico di formare il suo primo governo cioè lui capito com'è successo in quei tre anni è successo che con una mano Mussolini violentava l'Italia con le sue squadracce ma con l'altra mentre la violentava la seduceva la seduceva in che modo adesso il tempo è scaduto stabilendo l'archetipo la forma originaria di qualsiasi leadership populista dei cento anni a venire questa è la mia tesi Mussolini non è stato soltanto il fondatore del fascismo è stato il primo populista della storia politico di un'intelligenza sopraffina comprese per primo ciò che la politica sarebbe diventata nell'era delle masse che all'epoca si apriva e che oggi è nella sua fase matura cosa fa di Mussolini un populista beh intanto adesso non ho più il tempo di esporvi l'etalogo del populista il primo assunto di ogni populismo Mussolini afferma esplicitamente io sono il popolo e per converso sfidando il rigore grammaticale il popolo sono io no questo è il suo primo assunto lui in quanto figlio del popolo dice di essere il popolo e afferma che il popolo si incarna nel suo corpo nella sua persona questo vi rendete conto che l'assunto di ogni populismo che porta con sé il discredito per le classi dirigenti per le classi intellettuali per i burocrati di Bruxelles per quei socialisti intellettuali che stanno lì a spaccare il cappello in quattro con la teoria e porta con sé un'altra cosa il disprezzo per il Parlamento tutta la retorica antiparlamentare del fascismo dei primi anni riecheggia in maniera identica nei movimenti populisti di destra o di sinistra di oggi se io vi dico io non faccio politica io faccio antipolitica il mio movimento non è un partito è un antipartito voi a chi pensate a Beppe Grillo che sta qui sulla collina di Sant'Ilario sono frasi di Benito Mussolini sono frasi di Benito Mussolini altro legge del Mussolini populista sostituire una politica della speranza a una politica della paura poi la faccio finita Mussolini veniva dal partito socialista era il partito della speranza il suo simbolo era il sol dell'avvenire quell'idea grandiosa che a partire dalla rivoluzione francese anima nelle persone comuni nella gente comune la speranza la fiducia nella storia un'idea molto semplice la vita di mio figlio sarà migliore della mia quella di mio nipote migliore di quella di mio figlio guardate che la rivoluzione francese era una rivoluzione proprio mentale enorme prima i contadini di tutte le lande d'Europa pensavano che la loro vita sarebbe stata esattamente identica quella dei figli e quella dei nipoti eccetera eccetera però Mussolini è stato espulso dal partito socialista con ignominia e lui nel crepuscolo della prima guerra mondiale capisce una cosa un'altra intuizione geniale che esiste una sola passione politica più potente della speranza e questa è la paura gli uomini reduci della prima guerra mondiale quei milioni di rintornanti che premevano ai confini del paese avevano vissuto mangiato bevuto fumato paura per tre anni nelle trincee la morte poteva arrivare da qualsiasi luogo da un nemico che non vedevi dal cielo con i bombardamenti addirittura insufflata impalpabile nei tuoi polmoni attraverso i gas e lui capisce che lì c'è una risorsa fondamentale la paura e la diffonde la alimenta dice agli italiani del diciannove del venti abbiate paura abbiate paura dovete essere spaventati paura di cosa? delle speranze degli altri paura all'epoca che la rivoluzione socialista che i socialisti promettevano e minacciavano avvenisse e cioè che quel mondo nuovo che l'uomo nuovo quel riscatto di generazioni senza nome finalmente si verificasse cioè la grande speranza voi dovete avere paura della speranza di quei poveracci perché vengono e vi portano via quel poco che avete alla piccola borghesia quel tanto che avete alla grande borghesia e soffia su questa paura e soffia su questa paura e poi opera quest'altra mossa a suo modo geniale di brutale semplificazione della complessità della vita moderna perché un'altra intuizione del Mussolini populista è che gli individui contemporanei si sentono oppressi dalla eccessiva complessità della vita moderna la nostra vita è troppo complicata troppe cose il Medio Oriente l'Ucraina il cambiamento climatico le bollette da pagare non ce le facciamo più allora arriva Mussolini e dice non è così complicata come vi dicono quei rompipalle intellettuali dei socialisti come vi dicono i liberali non c'è bisogno guardate che tutti i problemi si riducono a un solo problema questo problema si riduce a un nemico un nemico mortale letale di cui tu devi avere paura e questo nemico a uno straniero invasore all'epoca tutto ciò veniva identificato nel socialista rivoluzionario lui dice ma come il socialista rivoluzionario è italiano italianissimo anche tu eri socialista no lui dice i socialisti sono nominalmente italiani ma siccome si rifanno alla rivoluzione russa che nel frattempo aveva trionfato nel 17 sono portatori della peste asiatica cioè del covid asiatico parole del Mussolini fascista populista no sono degli invasori accampati sul territorio nazionale dei traditori degli anti italiani degli anti americani degli anti francesi io sono il popolo il popolo sono io loro sono i nemici sono stranieri chi non sta con me sta contro di me è fuori del popolo è il nemico del popolo è uccidibile lo puoi uccidere è legittimo oppure lo puoi ributtare a mare o lasciarlo negare è ovvio che in questo schema di gioco per cui si sostituisce una politica della speranza con una politica della paura il ruolo che fu del socialista cent'anni fa viene oggi assunto non solo non pensate ai politici italiani non stiamo pensando a quelli viene assunto da qualsiasi leader populista spagnolo francese Trump il muro la vita è complessa l'America ma alziamo un muro alziamo un muro guardate che poi sembra che io stia semplificando ma Trump le elezioni le ha vinte così col muro poi dopo ti trovi a governare diventa un altro discorso allora la finisco qui voi vedete perché il fascismo è sottoposto a questa enorme rimozione perché ci costringerebbe a fare i conti con esso a fare i conti con Mussolini seduttore non solo con quello stupratore che sono la stessa persona e la stessa cosa a riconoscerci nel fascismo a partire da un senso di colpa e di responsabilità a guardare dentro l'abisso e a vedere l'abisso dentro di noi e poi no a fare i conti anche col nostro presente e invece in tanti in troppi preferiscono non fare i conti né con il passato né con il presente e di nuovo prestare orecchio cuori non menti ma intestini fegati stomaci cuori e orecchio alla seduzione populista grazie 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 Antonio abbiamo ancora pochi minuti e chiederei a ciascuno di intervenire molto rapidamente prima di tutto cioè prima di tutto per concludere sei d'accordo? guarda sì ma sono convinto che se Mussolini che si rifà a Mazzini è qualcosa diciamo anche lì puramente strumentale se Mazzini fosse riuscito a imporre l'idea di una costituente per fare diciamo l'organizzazione del nuovo Stato che lui avrebbe anche accettato monarchico se veniva fuori da una costituente ciò che è avvenuto diciamo in spregio al Parlamento l'ingresso dell'Italia in guerra nel 1915 e le conseguenze che sono state quelle sempre di una costituzione vecchia scritta male debole e assolutamente priva di garanzie che è quella che porta al potere Mussolini Mussolini non ci sarebbe stato e quindi se fosse stato fatto bene quel lavoro ora visto dall'altra parte un paese che ha fatto la sua unificazione con dei decreti legislativi perché questo è le leggi dell'unificazione del 1865 sono decreti legislativi di fatto senza una costituzione estendendo quella del 1814 del Regno di Francia insomma è un paese che Cavour aveva immaginato che fosse parlamentare e che lui aveva come dire fatto comportare come se lo fosse ma siccome non lo era aprì le strade già prima di Mussolini già alla fine dell'Ottocento a delle degenerazioni antiparlamentariste che erano già all'interno del mondo liberale e che proprio quel direttore del Corriere della Sera che tu hai citato aveva fomentato per i 15 anni precedenti la parola finale ad Antonio no no ma solo per dire che ma ci vuole il discorso che io faccio è che quei germi o quei semi come preferite perché Mussolini riteneva che la democrazia fosse ormai cosa superata lo diceva esplicitamente e che fosse cosa appunto dell'Ottocento e che il Novecento sarebbe stato invece il secolo della svolta al destra del ritorno della dittatura che fossero dei sistemi di governo preferibili e lo diceva quindi uno lo può considerare anche un seme quei semi o quei germi per me sono germi originari no dell'anti o dell'aparlamentarismo sono di nuovo fecondi presto potremo ritrovare quell'origine già l'uso della della decretazione per sta talmente dilagando che il Parlamento è diventato abbastanza un orpello ma se certe leggi proposte da questo governo che procedono per decreti e per fiducia dovessero poi passare il Parlamento diventerà sempre meno importante così diciamo che più ancora che a Mussolini ritorniamo a Cavour ecco molto presto ma vorrei dire che Lucio Caracciolo che mi ha invitato noi ci conosciamo poco non è responsabile di queste cose che io sto dicendo perché lui ha una reputazione di serio osservatore la geopolitica cose non non è non lo imputate a lui grazie Antonio anche del disclaimer però questa questa conversazione in realtà continuerà domani sera alle 21 con il professor Luigi Capogrossi Colognesi che è uno dei massimi conoscitori della storia di Roma oltre che del diritto romano e il titolo di questa conversazione sarà Roma la capitale impossibile e come vedremo ha molto a che vedere con le cose che ci siamo raccontati questa sera vi ringrazio tutti grazie grazie a tutti